Quarta edizione a Francavilla al Mare del Simposio di Arte Contemporanea dedicato alla Patrona Santa Liberata. La mostra collettiva è organizzata da Roberta Papponetti, curatorio artistico e Massimo Pasqualone. Quest'anno l'omaggio del simposio è tutto per il maestro Gaetano Pallozzi. Nell'edizione del 2012 era stata omaggiata Antonia Ac, nel 2013 Letizia Cagliazzo, nel 2014 Lino Alviani e Mario Di Profio. Inaugurata il 29 aprile, la mostra resterà aperta fino a domenica 3 maggio nella sala ovale di Palazzo Sirena. 50 gli artisti che espongono le loro opere provenienti da Abruzzo e Molise. Quest'anno abbiamo pensato di agire su tre linee fondamentali. Una prima linea è un omaggio a un'associazione di giovanissimi artisti molisani, l'associazione Smart, presieduta dall'architetto Antonio Pallotta, che propone una rappresentativa, un'ontologica degli artisti presenti nella sua associazione. Poi un omaggio al grandissimo maestro bruzzese Gaetano Pallozzi, 91enne, una delle voci più autorevoli dell'arte nazionale. Noi ogni anno dedichiamo un omaggio a un artista importante. Quest'anno il Comitato Scientifico, da me presieduto, ha pensato di omaggiare questo straordinario maestro. E poi alcuni artisti di livello internazionale che vivono qui nella nostra regione, abbiamo anche un artista lituano. Grazie. 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 Grazie.